a voi alleghetti g express incendi al carri vittorio manuele contributi comunali alleghè la nuova illuminazione pubblica da maggio un'area della trasparenza amministrativa operazioni si deve di decoro alleghè la rotta dei contrabbandelli ha guagnato in città sigla il pane di tutti i giorni cotto anche col forno a legna farinelli fresco market buongiorno ben trovati alla reti g express l'appuntamento quotidiano della formazione di algero channel saluti anche ai amici e amigas catarani fino a diventare il 3 novembre sarà possibile presentare da mano per ottenere un contributo per le famiglie che hanno tenuto di lasciare la parola a causa dell'incendio del 9 giurio al carri vittorio manuele gli antarassati potranno usufruire un contributo nella masura pari al 30% per un massimo di 300 euro sostituzione e integrazione del 443 su polsi di pubblica illuminazione a lungomaredante lo cos ve illuminati di tipo liampara lo progetto approvato della giunta comunale sanzareggio dei miei grandi interventi di amodernazione e dell'illuminazione di tutta la città domani la giornata della trasparenza organizzare del comune dell'illuminazione a rasdò del bai tira sarre conferenze del qual te esuvelta a tutti i rappresentanti all'occasio per illustrare lo scambiamento attuale dell'amministrazione e lo prossimo traballo per completare tutte le iniziative del quadro al merito si farà anche illustrato lo nuovo ragionamento comunale che si arriva all'accesso civico già pronto alla discussione del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale e la cura e la manutenzione del Veltepubblico per l'allievo per ora più mila abbre a diversi spazi della città manutenzione dei spazi sono ancora sui trattamenti fitosanitari mesi o meno con 620 palmi fenix canariensi attaccati del punterolo rosso tra le quali del Vial del primo maggio carrega ribaldi gialdini e altri carriensi della città una parte consistente di 5 mesi per il 2017 e 12 mesi per il 2018 tra poco tempo altri 10 operatori del cantiere Welt interverranno per 2 mesi alla pineta di Maria Pia vedo alla regia le gottune mandiretta è arrivata l'app di Alghero Channel la web social tv puoi vedere l'Algero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG accedi a tutte le puntate del fortunato format audaci e a cuore aperto un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it Alghero Channel, web social tv domenica si esattuara la De Onze Edizio della rotta descontrambalils manifestazione della Baica Savera che unisce idealmente la Saldegna e la Madarena a Malaconsiga e Bonifacio a Guagnati per lo sgossos la Baica e Garesa Ishtar dell'AS di Calichi Mare al Comando Gian Mario Catta a Mal'equipaggio a Fulmati di Giorgio e Gavino Maciocco Michele Mura e Antoni Pala la curiosità di voi un proverbio agares l'amistà fetta ma il vi dura di la Talda al Maiti nel corso della Talda a trasmetterlo punti di vista del consigliere comunale Graziano Porco a riguardo del parcheggio del carriere Brigata Sassari per qualsiasi raggiungere la sua, una sua, una sua o una pregunta vos vorrei contattare la pagina di Giorgio Channel quando vorrei, a tutte le ore ora, le previsioni del tempo per domani amus viura a 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